Siamo in compagnia del sindaco di Albino, architetto Luca Carrara, al quale poniamo due domande ben precise. Prima di tutto vogliamo sapere, signor sindaco, com'è la situazione del LIMU ad Albino, tra il preventivo e quello che realmente avete incassato. Allora, a bilancio avevamo messo una previsione di entrata di circa 4 milioni e 200 mila euro. L'accertato, quindi quello che avremmo dovuto incassare a fronte dei dati poi aggiornati era 4 milioni e 100, quindi qualcosa in meno. Quello che effettivamente abbiamo riscosso sono stati circa 3 milioni e 800 mila euro. Mancano 300 mila euro che sono ritardati i pagamenti che si spera di recuperare, dovuti soprattutto ad alcune aziende, alcune grosse aziende, particolarmente in crisi, che però possono tranquillamente fare il pagamento con un leggero ritardo, con delle sanzioni già previste, intorno al 3-4%. Per cui l'accertato comunque si avvicina in termini leggermente più bassi su quello che erano le nostre previsioni. E questo è un dato che ci tranquillizza rispetto a quelli che erano i conti che avevamo fatto per il nostro bilancio. Quindi è una situazione in un certo modo abbastanza normale. Direi sotto controllo. È chiaro che adesso le regole, come al solito, perché siamo in Italia, cambieranno per l'ennesima volta, quindi adesso gireranno parte ulteriore dell'Imu, tranne quelle delle zone produttive che resteranno ancora allo Stato, per cui dovremo per forza di cose rivedere alcuni aspetti e alcune normative. Abbiamo intenzione di fare dei piccoli aggiornamenti che però non riguardano, se non in riduzione, le tariffe. Due parole, signor Sindaco, per quanto riguarda la situazione di Piazzo. Quella famosa apertura di quel passaggio che tuttora è dati tanti. A che punto siamo? È una pratica lunga perché ovviamente è da anni che si discute di questo passaggio. Noi ci siamo attivati come amministrazione per un buon riaccordo. Non l'abbiamo trovato. Abbiamo quindi dovuto fare una variante urbanistica. Siamo partiti con una procedura di esproprio. Ovviamente il proprietario ha fatto il legittimo ricorso, ha perso il ricorso al Tar. Adesso ha fatto un ricorso al Consiglio di Stato. Però noi oggi saremo nelle condizioni di poter intervenire. È chiaro che, e lo dicevo agli amici dell'associazione di Piazzo, l'amministrazione resta ovviamente dell'idea che questo passaggio va riaperto. Però è un'amministrazione, come tutte le amministrazioni, in grosse difficoltà economiche. Quindi siccome stiamo preparando il bilancio e siccome quella riapertura del sentiero incide per circa 50.000 euro tra le spese di esproprio e la realizzazione del percorso, adesso lo stiamo programmando gli interventi per quest'anno. E quindi, come dicevo all'associazione, i soldi sono a bilancio, ma va capito se siamo nelle condizioni di poterlo realizzare da subito. Resta uno dei nostri obiettivi prioritari. Quel passaggio per noi è importante, quell'area è importante che la nostra gente ricominci a godersela. Non avremmo fatto le procedure che abbiamo fatto se questa roba non ci interessava, però ci scontriamo con delle condizioni economiche. Sembra ridicolo, perché a volte qualcuno lo interpreta come una roba ridicola, che un comune non abbia 50.000 euro per arrivare in fondo alla procedura, ma in questo periodo contiamo anche le mille lire. Lire ho detto, neanche euro. Grazie signor Sindaco, da Albino, lì nello studio.